Oggi vi racconto una storia strana, una storia di libri e di persone un po' triggerate. Allora, tutto è iniziato circa un mese fa. Un mese fa un ragazzo, non mi ricordo neanche il nome, mi scrive in privato su Instagram dicendomi in modo concitato Ehi Giacomo, 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 ascolta, domani esce un libro assurdo che parla della superiorità genetica femminile. E io dico, ok, va bene, ma non è giusto, non si può dire che le femmine sono geneticamente migliori. E io rispondo, va bene, ok, calmo, cioè nel senso, dirà le solite cose, cioè che in media le donne, le femmine, vivono di più dei maschi, cosa verissima, che magari si ammalano meno di cancro o di tante altre malattie, cosa che è vera e va bene, cioè dirà queste cose qui, no? Gli rispondo un po' anche, in quel momento ero anche un po' stanco, un po' detto, che strano questa cosa. Oltretutto avevo da poco finito un bel libro, un libro un po' particolare in cui si parlava molto bene, in modo molto approfondito della questione della longevità, cioè del vivere a lungo, tutte le pratiche che in qualche modo possono aiutare a vivere a lungo, o viceversa i fattori di rischio che in un certo modo accorciano molto la vita media, l'alcol, il fumo, certi tipi di dieta o tante altre cose. E avevo ben fissa questa idea della differenza abissale che c'è tra maschi e femmine, cioè purtroppo in media i maschietti viviamo meno, anche indipendentemente da incidenti, cose, proprio anche una volta che arrivi a 90 anni, se sei un 90enne maschio hai molte meno probabilità di andare avanti tanti anni rispetto a una femmina. E questa differenza c'è, la conosciuta un po' mi dispiace, no? Alla fine io non fumo, vorrei diventare astemio, anche proprio per vivere più a lungo e anche in modo più sano, e arrivare anche a un'età maggiore, con una sanità maggiore, ma parto già sfortunato, se fossi una femmina sicuramente viverei di più in media. E allora gli dico queste cose qua, gli fa ma no, ma no, ma è inaccettabile, non si può usare questa retorica. Al che dico, ok, mi ha incuriosito, no? Vado a vedere su internet il libro, si chiama La Metà Migliore, vado a vedere l'autore. L'autore, leggo il nome Sharon Moalem, Io dico, ma cavolo, ma io Sharon Moalem lo conosco, Sharon è un nome tipicamente femminile, però in realtà so che è un maschio, me lo ricordo. Mi ricordo qualcosa di vago, mi ricordo che era un ricercatore, un ebreo, però che viveva mi pare in Canada, una cosa del genere, e chi mi ricorda aveva scritto un libro bellissimo, che era questo, L'eredità Flessibile. Un libro molto molto bello, in cui lui da genetista e medico insieme racconta alcuni aspetti che riguardano la genetica. La genetica che, lungi dall'essere solo quello che noi abbiamo studiato a scuola, no, di Mendel, è qualcosa di molto più complesso, e cioè il fatto che molto spesso per moltissime varianti genetiche, per moltissime malattie rare legate ai geni, ma anche in varie condizioni di vario tipo, i geni non è che funzionano come abbiamo in mente in modo on-off, ma molto spesso in modo flessibile. C'è una grande, si direbbe in biologia, plasticità fenotipica. C'è una grande variabilità, in parte dovuto all'epigenetica, in parte dovuto all'interazione che hanno i geni con l'ambiente. Mi ricordo che ho letto questo libro e mi aveva colpito molto positivamente. Lui è una persona molto intelligente ed è molto bravo. E ha un'altra cosa molto bella che ha questo modo di scrivere, che a me piace molto, cioè parte dal caso singolo, magari appunto un caso clinico, un qualche paziente che ha avuto un problema, oppure a volte qualcosa che non c'entra nulla con l'argomento in sé, magari un qualcosa di storico, e poi da lì amplia e parla dell'argomento in generale. Molto spesso l'argomento in generale è bello corposo. Sembra un po', se ci pensate un po' tipo le puntate di Simpson, no? Che parte una roba più piccola, molto spesso diventa qualcosa di gigantesco. I capitoli sono tutti costruiti così e a me piaceva tantissimo, tanto che ho detto, ma dai, uno come Sharon Moalem che ha scritto questo bellissimo libro, non credo che si dia al cosiddetto marketing da bocco, no? Quello, vabbè, marketing da bocco, quello per cui tu scrivi un libro, tipo che ne so, io domani scrivo un libro che si chiama Io odio i cani, mettiamo caso, eh, tra parentesi, e cosa succede? Succede che tutti gli amanti dei cani comprano il libro per insultare, per fare i video dicendo Ah, ma questo qui odia i cani, ma è impensabile, ma è sbagliatissimo. Viceversa, poi ci sono le persone, magari poche, che davvero odiano i cani, che quindi magari comprano il libro perché vogliono assolutamente avere un paladino che odia i cani insieme a loro, la gente inizia a litigare, si creano tutte le diatribe su internet, poi quindi anche le persone più moderate, no? Magari il libro lo comprano. Perché? Perché lo comprano? Ovvio, perché ne parlano tutti, perché magari uno vuole dire ma vediamo chi ha ragione tra i due schieramenti dove mi pongo, poi le persone moderate dicono ma io ho letto questo libro ed è estremamente estremo, quindi devo parlarne, e quindi ecco, si genera quell'introito, quel gigantesco circo mediatico di persone che parlano tutti dello stesso contenuto. Ecco, il marketing da bocco, ce ne sono vari tipi, e sulle questioni di genere molto spesso se ne creano un sacco di questi contenuti, un sacco di questi libri, video, eccetera, eccetera, eccetera. Al che mi dico, dai, è impossibile che Sharon Moalem faccia un libro col marketing da bocco, è più intelligente di così, è più in gamba di così, dai, non può essere così. Oltretutto, davvero, sto libro consigliatissimo, soprattutto se avete un'idea un po' appunto fissa della genetica, ve lo consiglio davvero molto, lascio in descrizione il link se volete, o nel primo commento per l'affiliazione se lo volete prendere. E allora, vabbè, lo faccio. Ho detto, da una parte dico, vabbè, un altro libro solo lo prendo, ovvio che lo prendo, e poi ero anche curioso, no, del tema, e quindi lo prendo, mi prendo il libro, la metà migliore. E guardate il sottotitolo, che sembra marketing da bocco, no? La scienza che spiega la superiorità genetica delle donne. Ho detto, ok, inizio a leggerlo, e capisco qual è il problema. Il problema è che è boomer, cioè è ingenuo, ingenuo, ok? Nel senso, avete presente quella retorica che a volte si usa un po' nelle persone di mezza età, per cui, ah no, le donne, le donne sono molto in gamba, le donne sono molto brave, ah, se fossi una donna, che a volte c'è un po', un po' esagerata, ma che non è fatta in modo negativo, viene fatta in modo un po' positivo, magari anche in modo un po' sbagliato, però nel complesso non è che si fa con cattiveria, ok? Ecco, penso che semplicemente Sharon Moalem abbia questa grande passione per le femmine, per le donne, per il mondo femminile, si senta in un certo modo un po' una persona privilegiata e voglia un po' rinobilitare, ma non lo fa neanche in modo esagerato, lo fa in modo un po', sì, cioè in un modo un po' ingenuo, quindi la parte formale, la parte intorno che potrebbe colpire qualcuno, secondo me va semplicemente ridimensionata, ecco, con questa boh, ingenuità di fondo, ma inizio a leggere il libro e wow, cioè i contenuti di questo libro sono tanta roba, mi hanno davvero preso, mi ha preso non poco, ecco, e lui fa questo, lui prende e praticamente questo libro è un riassunto di quello che la medicina, la genetica ci può dire sulle differenze biologiche effettive che ci sono tra maschi e femmine. Ovviamente in alcune cose oggettivamente dal punto di vista genetico serve meglio essere una femmina, in altre cose ovviamente magari possiamo dire che è meglio essere un maschio, banalmente, un esempio, appunto, le femmine vivono tendenzialmente in più, al di là poi da quella che è la socialità, dal fatto che in un ambiente sociale magari appunto i maschi tendenzialmente tendono a morire di più per motivi stupidi oppure magari motivi seri tipo sul lavoro o cose del genere proprio cioè pare ci sarebbe una differenza anche più profonda, no? Arrivati a una certa età anche in pensione per capirci se voi guardate le curve di mortalità dei maschi e delle femmine è palese che c'è qualcosa di profondo anche a livello biologico per cui le femmine quasi sempre sopravvivono in più. Se vai a vedere tra gli over 100 anni quante maschi ci sono e quante femmine ci sono rimani sconvolte, la maggior parte sono femmine. Poi ci sono tanti altri casi che io per esempio non conoscevo e che mi hanno davvero appassionato. Da una parte per esempio tutto quello che riguarda il sistema immunitario. Io non sapevo ci fossero delle differenze così importanti in alcuni aspetti che riguardano il sistema immunitario in particolare l'allenamento dei linfociti T che pare essere molto più profondo e molto più complesso nel caso delle femmine nei mammiferi il che è davvero molto più interessante di quello che immaginassi. Questo spiega anche molte cose banalmente pensateci voi magari non so se avete presenti i dati in questo momento che riguardano il covid beh anche soltanto a livello di mortalità di letalità la differenza tra maschio e femmine è importante. In media essere un maschio significa che se io mi ammalo di covid ho circa il doppio di probabilità di morire rispetto a una femmina. È una rogna cavolo è un peccato. Bene io non ce l'ho anche pensato di dire ah ma questa cosa vale solo per il covid o vale anche per altre malattie. Bene la risposta è chiara quasi tutte le malattie infettive ovviamente quelle che almeno non hanno una specificità nel caso delle femmine boh penso tipo una candida o cose del genere ok colpiscono molto 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 di più i maschi che le femmine. Questo è davvero interessante quindi valeva per il vaiolo vale per tantissime malattie. Questa cosa mi ha colpito non me l'aspettavo effettivamente ovviamente il meccanismo sottostante c'è è molto molto più complesso di quello che che sembra e quindi ho detto wow interessante altri aspetti che sapevo sono quelli per esempio dei tumori i maschi tendono in media ad ammalarsi molto più di tumori le femmine molto meno e l'altra cosa interessante è anche quello che riguarda la riparazione cellulare o dei tessuti per cui ecco che se un maschio si fa un danno tipo un taglio e una femmina si fa un taglio in media una femmina tende a rimarginare più in fretta a riparare più in fretta quindi ecco che le femmine sopravvivono di più dopo i trapianti in media vivono e cavolo colpisce no? perché c'è questa differenza biologica così profonda e lui oltretutto dà anche una spiegazione grosso modo di tutto il discorso molto molto affascinante secondo me parziale ma affascinante lui riconduce molto alla questione dei due cromosomi X che è e lo argomenta molto bene riassume molto bene la letteratura su quel tema lì cioè piccolo inciso altrimenti non si capisce il resto del discorso c'è una grande sproporzione tra il cromosoma X e quello Y quello X è molto più grande ha circa 800 geni mentre quello Y è piccolissimo ne ha soltanto una sessantina circa questi sono gli ordini di grandezza per cui ecco allora adesso si capisce meglio il resto non so se lo sapete noi maschietti purtroppo abbiamo un solo cromosoma X e poi abbiamo il cromosoma Y mentre le femmine hanno due cromosoma X e voi direte vabbè ma che differenza c'è la differenza è importante e cioè le femmine tendenzialmente hanno in ogni cellula un cromosoma X attivo e l'altro che viene in un certo modo disattivato diventa una specie di roba in forme schifosa si chiama corpo di bar e voi direte ok va bene quindi più o meno la differenza tra maschie e femmine dovrebbe essere la stessa e la risposta è in realtà no perché no per due motivi perché uno il maschio ha sempre solo un cromosoma X mentre le femmine possono alternativamente attivare o disattivare un altro per cui ecco che in una cellula possono avere un cromosoma X mentre in un'altra cellula possono avere attivo l'altro cromosoma X se c'è una qualche mancanza di un gene che porta per esempio a un enzima nei maschi sono fregati sostanzialmente nelle femmine invece c'è sempre quasi sempre in media almeno il 50% dei geni che sono attivi ok di quella particolare cosa per cui esiste un sistema di compensazione continuo tra le femmine che è davvero davvero molto più ricco che noi maschi siamo molto più limitati da questo punto di vista d'altro canto poi non è neppure del tutto vero che il corpo di bar in ogni cellula è del tutto inattivato in realtà una fetta non indifferente dei geni che ci sono sul cromosoma X si attivano anche nel corpo di bar vengono comunque trascritti un po' un 25% magari poco ma questo significa che in media le cellule delle femmine hanno una potenzialità di espressione genica molto più ampia diversificata e in certi casi potente rispetto alle cellule maschili cavolo lui riconduce tanti casi di tante malattie genetiche a questo a questo si conosce alcuni superpoteri in un certo modo sono associati a questo l'esempio perfetto è quello della tetracromia che è bellissimo praticamente esistono delle donne che hanno c'è un gene che riguarda la visione che si trova sul cromosoma X se uno si trova una femmina si trova due alleli diversi di un certo gene ok può tendenzialmente vedere non tre lunghezze d'onda come facciamo noi ma ben quattro a quel punto può vedere quattro colori e a quel punto la somma totale di colori che riesce a elaborare il suo cervello sono ordini di grandezza di più di quanto facciamo noi persone normali e comunque in media nella visione interiale femmine vedono un po' meglio dei maschi cavolo sono cose che tu dici ma che figata questa cosa non la sapevo bello che questo libro l'abbia fatto bene su questa cosa del cromosoma X come spiegazione principale la doppia presenza mi ha convinto anche se io ancora non ci metterei la firma che quella è l'unica spiegazione nel senso che in biologia spesso ci sono delle concause a me vengono in mente un paio di concause che non possono essere trascurabili e che probabilmente ci sono le differenze ovviamente socio-culturali cioè ovvio che le donne si ammalano meno di cancro magari anche per motivi biologici però poi magari ci sono anche dei fattori ambientali i maschi fumano di più per esempio bevono sicuramente più alcol e magari lo fanno anche in modo un po' più strambo cioè magari facendo più ubriacature quindi sicuramente c'è anche una componente sociale che lui tende un po' a minimizzare che probabilmente c'è e poi c'è la questione degli ormoni sessuali in particolare il testosterone noi sappiamo che ha un'attività in certi casi anche deleteria nei confronti di certe caratteristiche per cui ricondurre tutto alla mancanza dell'X di un X nei maschi mi sembra un po' limitato però quel punto è buono è davvero buono fa un sacco di esempi molto buoni per cui nel mio ragionamento delle differenze biologiche di maschia femmine sicuramente aggiungo un pezzo fondamentale che mi mancava oltretutto e questa cosa ve la dico perché capite quanto mi ha preso questo libro c'è un passaggio nel libro in cui racconto una cosa un po' strana racconta di come dei pescatori mi sembra in Cina quelli che usano i cormorani no i cormorani sì i cormorani per pescare che esiste questa pratica tipo cormorani da riporto un po' come i cani da riporto dicono una cosa particolare dicono una cosa particolare noi preferiamo avere i maschi perché le femmine sono più sfigate e tendono a morire prima al che ho avuto uno scossone ma sì ma è giusto ma è geniale questa cosa perché perché la determinazione nel sesso negli uccelli è l'inverso della nostra negli uccelli i maschi hanno il doppio cromosoma più grosso ZZ mentre le femmine hanno il cromosoma ZW ok W corrisponderebbe un po' al nostro Y mi sono detto wow se il suo ragionamento è giusto beh allora dovrebbe funzionare all'inverso negli uccelli e tanto che mi sono detto ma questa sai che è una domanda molto bella cioè per vedere se è vero che la questione XX XY è il punto principale che spiega le differenze biologiche in maschi e femmine beh basterebbe andare a vedere negli uccelli come contro esempio se negli uccelli i maschi vivono di più beh abbiamo già un indizio che la questione cromosomica possa essere la questione principale questa cosa mi ha preso talmente tanto che ve lo giuro sono andato a vedere in letteratura scientifica ci sono differenze di età tra i maschi di uccello e le femmine di uccello non ho trovato quasi niente non so devo cercare in modo più approfondito e allora mi sono anche detto cavolo mi verrebbe da fare quasi un esperimento io no prendo mille canarini maschi e femmine li tengo in modo più o meno simile e vedo chi sopravvive di più se sopravvive di più i maschi se sopravvivono di più le femmine già questo è interessantissimo così un po' per sport proprio perché la cosa mi ha appreso moltissimo l'ho fatta questa cosa sono andato a contattare un po' di allevatori e ho chiesto se così la mia domanda era semplice anche per non mettere dei bias per caso hai notato se per caso i maschi o le femmine vivono di più dell'altro sesso nei tuoi allevamenti e la cosa che mi hanno risposto anche se ovviamente non è ricerca scientifica questa però capite il spunto tutti mi hanno detto no no tendenzialmente i maschi vivono di più tanto che di solito le femmine sono più apprezzate perché sono più rare perché tendono a morire prima perché sono anche un po' più preziosi in un certo modo e quando ho sentito questa cosa ho detto ma sai che potrebbe davvero essere quindi ecco un giorno magari farò una ricerca su questo argomento magari su più specie di uccelli ne prenderò varie voliere e proverò a vedere la vita media dei maschi e delle femmine se cambia ma se fosse per esempio confermato ecco che abbiamo un elemento un elemento in più se qualcuno vuole fare una ricerca di questo tipo c'è però per dire se questa cosa mi ha preso così tanto mi ha emozionato così tanto tanto da mettermi a chiedere allevatori di uccelli se per caso loro vedono una differenza dei sessi significa che questo video sì questo video questo libro effettivamente mi ha preso mi ha preso non poco l'ho trovato davvero fantastico da un punto di vista dei contenuti quindi complessivamente questo libro ve lo straconsiglio davvero anche questo lo lascio in descrizione insieme all'altro mi è piaciuto davvero tanto era da tanto no ho trovato altri libri così ultimamente anzi un bel periodo per le letture però ve lo consiglio davvero molto e fatevi un po' un'idea proprio delle differenze che ci sono biologiche e ora non voglio lasciarmi fare anche un piccolo discorso strano noi abbiamo un po' la tendenza a mischiare il concetto di uguaglianza e parità c'è questo problema bello grosso per cui noi tendiamo giustamente vogliamo la parità tra i generi o tra i sessi all'interno della nostra specie e quindi un po' abbiamo la tendenza a negare la disuguaglianza biologica che invece c'è esiste ok questo è un problema dopo aver letto questo libro mi sono proprio reso conto di una cosa importante chiunque si occupi di parità di genere deve essere ben conscio che la parità e l'uguaglianza sono due cose ben diverse la parità è avere pari diritti pari opportunità ma si parte molto spesso da differenze biologiche che vanno tenute in conto una cosa che mi ha colpito molto davvero molto è la questione dello sviluppo dei farmaci proprio perché le donne hanno una complessità maggiore che è proprio data da un numero maggiore di geni nello sviluppo dei farmaci questa cosa molto spesso non si teneva in conto ora si tiene già più in conto per capirci ma ha generato dei problemi non indifferenti questa cosa nel corso del passato per esempio purtroppo è successo che vari farmaci andavano bene per gli uomini ma poi sono stati tolti dal commercio perché invece si è scoperto che sulle donne non funzionavano oppure si è smesso di prescriverle alle donne perché proprio perché quando si faceva la ricerca scientifica si facevano molti esperimenti sui topi maschi poi su pazienti per lo più maschi poi sempre più su pazienti fase 1 fase 2 fase 3 maschi e questo poi generava dei problemi non indifferenti nei confronti delle femmine bene se noi non partiamo da questo presupposto cioè che ad un punto di vista in questo caso per esempio nella risposta ai farmaci maschi e femmine possono rispondere in modo mediamente diverso beh rischiamo di creare un'ingiustizia una non parità effettiva nei confronti delle femmine per cui dobbiamo riconoscere queste differenze proprio poi per riuscire eventualmente a garantire dei pari diritti in questo caso una pari sicurezza nei confronti di un certo farmaco oltretutto smetto di elencare i libri ma questo tema dei farmaci dopo che avevo accennato qui nel libro mi aveva preso quindi ho cercato un libro che ne parlasse questo libro si chiama per soli uomini in cui si chiama il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design e l'ho trovato un libro carino anche se non lo dico non all'altezza degli ultimi due nel senso che qui si mischia un po' la retorica cioè e a me non piace quando c'è retorica in un libro però con dei capitoli che sono concreti quello dei farmaci dello sviluppo dei farmaci è molto bello spiega la differenza i problemi che ci sono stati nel passato e in parte che si sta cercando di mediare sullo sviluppo dei farmaci c'è un altro capitolo che mi ha colpito non poco è quello del design che non mi aspettavo non ci avevo neanche mai pensato e cioè c'è un problema sociale non indifferente sul fatto che molte cose che vengono costruite intorno a noi in realtà vengono costruite spesso avendo come riferimento un maschio adulto e questo già ha dei problemi non indifferenti l'esempio perfetto è quello del crash test i crash test i crash test per anni quelli che tipo i manichini nelle macchine sono stati fatti con manichini di una grandezza e di una corporatura maschile questo è un problema non indifferente perché noi quindi abbiamo tutta una conoscenza degli incidenti che riguardano le macchine sono sicure e degli incidenti che riguardano il corpo medio di un maschio non per esempio il corpo medio di una donna e questo ovviamente di una femmina questo ovviamente crea dei problemi non indifferenti perché ovviamente questo implica che a livello di incidenti statali a livello di sicurezza a livello di come ha messo il cruscotto all'interno di una macchina l'airbag sono cose più che riguardano appunto il maschio di nuovo è un problema per esempio e questo per esempio mi ha colpito poi ci sono tanti altri esempi e ripeto purtroppo qui dentro c'è anche un po' di retorica ma comunque è un bel libro se volete approfondire queste questioni di genere però con un approccio concreto con i dati non con il marketing da bocco non con troppa retorica ce n'è un po' ma la retorica è difficile da togliere all'interno della nostra società ora tutto questo discorso per dire grazie ragazzo non mi ricordo neanche come ti chiami che mi hai detto ma cosa ma un libro sulla superiorità femminile no grazie perché mi hai ricordato che si usciva questo libro di Sharon Moalem merita ho fatto una bellissima lettura mi sono interessato moltissimo magari un giorno farò un esperimento sugli uccelli per approfondire questo tema bello mi è proprio piaciuto questo percorso all'interno della genetica delle questioni legate ai sessi e vi consiglio di farlo anche voi davvero vi consiglio di leggere questi tre libri perché secondo me è un bel percorso tutti e tre non l'ho mai fatto di consigliare tre libri in un colpo solo ma vi invito a farli vi lascio i link nel primo commento basta questo era tutto quello che volevo dire e è stata una bella cosa che volevo condividere con voi spero che questo video un po' mercadinico vi piaccia basta noi ci vediamo giovedì con il prossimo Bionews ciao Bionews